Una lotteria per finanziare un posto letto per gli anziani poveri. Grazie alla solidarietà dei foggiani sono stati raccolti quasi 7.000 euro che serviranno a finanziare la disponibilità di alcuni posti letto per il ricovero dei meno abbienti nella casa di riposo Sant'Antonio. A ideare l'originale Riffa è stato il vulcanico direttore della casa di riposo fra Leonardo Civitavecchia. Consideriamo che con la crisi che c'è la situazione qui è davvero peggiorata. Perché non creare posti speciali? Noi siamo circa 40 anziani che pagano la loro retta ma perché non creare nuovi posti per chi è nel bisogno per chi non può raccogliere per intero la somma? E allora ci siamo vendati la lotteria di beneficenza. Quasi 3.000 biglietti. I miei collaboratori mi hanno detto che nemmeno più di 1.000 venderemo. Invece siamo arrivati a quasi 3.000. Una serata di musica, cabaret e solidarietà che attraverso la lotteria è servita a porre l'accento su un tema molto attuale in piena crisi economica ossia quello dell'assistenza ai poveri sempre più numerosi, soprattutto tra gli anziani che necessitano di un'adeguata assistenza sociosanitaria. Il cuore grande dei foggiani ha dimostrato credo che tra le belle cose che sono state fatte quest'anno a Foggia io avevo già fatto con i miei anziani il mese scorso per Lampedusa circa 1.500 euro. Oggi ci ritroviamo a fare questa nuova cosa. Insomma, credo che il buon Dio è davvero nato.